Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video! Alla giorni Leonardo! Io sono Leonardo, guardate questo, guardate questo, mi sono fatto qua, mi sono fatto qua, proprio male, sono caduto dalle scale. Quarto piano al terzo piano! Oh, mezzio pasquale! E ora ragazzi, presenteremo la chiapparela nostruosa. No, papi non la faccio! Ok, vediamo questo chiapparela mostruoso. Io registrerò per voi, quindi loro dimostreranno com'è. Incominciate! Incominciamo! No, ti va aspettando, aspettate! Non si può portare una candela! Dobbiamo? Raga, io mi porto una candela! Si deve portare una candela! A chi? No! No! A chi dobbiamo portare una candela? Giuliano! Io la devo! Allora, ragazzi... Raga, due bicchieri con la candela! Candela? Ragazzi? No, ragazzi! Ragazzi, mi scivola! No, no, no! Mi scivola, mi scivola! Mi lo dico! Però se torce non... E prendere fuoco! Eh sì sì! Se scade, prende fuoco! Eh sì, ha ragione! Ma allora c'è il bontile tutto in legno! 1, 2, 3, vai! A chiacchierare la vostra! Ah! Così? Ragazzi! Vivereci! Ci vediamo alla schiappare la vostra! Allora... No, no, no! Eh? Non vai niente! Faccia! 1, 2, 3! Via! A chiacchierare la vostra! Scappate! Lui! Ua! L'ostruzzo! Ehi, Shown! Come va? Andate va! Ja, ja, ja! Ragazzi, c'è una musica troppo casante qua! Ma non tornano! Oh, ma non tornano! Oh, no! Stanno tornando! Sto facendo come le gare di corsa! E Fondermuller! Fondermuller! Alla formula! Ok! Dite i vostri giudizi! E incominci noi giudizi! Come è stato la chiapparello, Leo? È stato fantastico! Ragazzi, però... Non ci provate a casa! Perché qua... Siamo all'aperto! Perché qua siamo all'aperto! E mi sa che a casa non sarà molto contenta di avere questo... Piccolo... Guardate! Guardate cosa devo dire! No, 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 no! No, no, no! Non è ancora finito! Si, è finito! No, 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 no! No, devo fare una cosa! Cosa? Una cosa? Vaffanculo, mondo! Vaffanculo, attenti! Ragazzi... Ragazzi, arriviamo ai prossimi mille... Arriviamo ai mille iscritti per fare la prima live! E ragazzi, ricordate di attivare la campanella, iscrivervi e lasciate il mi piace! Condividete il video a tutti i vostri amici! Ciao ragazzi! Ciao! E al prossimo video! Ve lo faremo vedere dopo! Ma dopo la pausa! Vai!